Valerio Massimo Manfredi, noto archeologo, scrittore e conduttore, racconta ancora una volta una storia intensa, ambientata nell'antica Roma. Diana Manfredi, la figlia, ne coglie il lato più immaginifico e affascinante e lo interpreta in tavole a colori. Insieme hanno presentato ad Ugento il lavoro a quattro mani, Bagradas, e il racconto di strani e misteriosi accadimenti che si sono verificati al tempo della dominazione romana ad un corpo di soldati inviati contro i cartaginesi. L'esercito del console romano Attilio Regolo, sbarcato in Africa durante la prima guerra punica, si accampa lungo il fiume Bagradas. E' qui che misteriosamente alcuni soldati spariscono senza lasciare tracce ed iniziano a circolare strane storie che parlano di mostri diabolici. La storia è chiaramente la storia di mio papà, ho cercato di adattarla ad una visione più fumettistica legata alla graphic novel e il risultato è questo. Ti piace il risultato? Certo! Io semplicemente ho scritto il racconto che è stato utilizzato per scrivere una graphic novel. La graphic novel è una nuova forma espressiva che ha ottenuto dei successi clamorosi. Pensiamo a Frank Miller che ha scritto 300 per esempio, da cui è stato trovato un film da 430 milioni di dollari di incasso. Oppure Sin City che è un altro capolavoro con un cast meraviglioso. Ma l'incontro è stato anche una piacevole chiacchierata su temi di attualità ed in particolare il momento storico che vive l'Italia, l'importanza della storia per comprendere il presente. Una conoscenza che deve passare anche e soprattutto dalla propria storia e dalla propria identità perché nessuno può vivere senza memoria. Così, ha detto Manfredi, deve essere anche per la storia di questa terra. Gli darei la sua giusta, necessaria, importante attenzione e tutto quello che ha a che fare con lo sviluppo degli studi. Insomma, da un lato non è necessario mitizzare, dall'altro non si deve trascurare. Insomma, il passato ci ha lasciato dei messaggi e quindi noi li studiamo e li teniamo nella giusta considerazione. Avete qui un magnifico museo con dei pezzi straordinari e mi sembra che non ci sia problema. Si sta facendo quello che è giusto fare.